Grazie Luca Mercalli, ci vediamo la prossima settimana. E intanto Montagne finisce qui con i nostri titoli di coda, torniamo sulle dighe di cui ci siamo occupati in apertura di trasmissione. Queste immagini di arrampicata sportiva a pieve di cadore sono tratte dal canale YouTube di Dolomiti Channel, una delle tante realtà che diffondono in rete temi e immagini care agli appassionati di montagna. È davvero tutto per oggi, torniamo venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora. Grazie per averci seguito e a venerdì davvero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.